Musica Vorremmo che quello di Cumiana non diventasse un caso studiato in qualche tesi di laurea per dimostrare come in assenza di regole certe un'amministrazione, pur se delegittimata, possa continuare a governare un ente. Così ha concluso il suo intervento la senatrice del PD Magda Zanoni, presentando a Roma il problema del Comune di Cumiana. Da sette mesi l'amministrazione comunale è composta da soli cinque consiglieri più il sindaco, numero insufficiente a rendere validi i consigli comunali, ha dichiarato Magda Zanoni. C'è stato un ricorso al Tar del Piemonte che ha dichiarato l'illegittimità dell'interruzione della procedura delle surroghe dei candidati delle liste di minoranza. E ora alcuni cittadini a questo punto hanno fatto un esposto per chiedere al ministro un intervento del prefetto, invocando l'adozione di un provvedimento. I carabinieri hanno arrestato ieri pomeriggio a Sant'Antonino di Susa, vicino alla stazione ferroviaria, una nomade di 41 anni residente a Cumiana per truffo ed estorsione. La nomade aveva più volte truffato una 49enne, alla quale ha garantito di toglierle il malocchio dietro compenso in denaro. Se non paghi, ha detto la donna, tuo marito e tuo figlio moriranno. La donna, fermata e minacciata per strada per paura di altre conseguenze personali, ha versato alla truffatrice Monili d'oro per un valore di 10.000 euro e la somma di 300 euro. Si è svolto oggi pomeriggio nella villa comunale di Cantalupa la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al presidente regionale del CONI Gianfranco Porqueddu. A consegnarle è stato il sindaco Giustino Bello per il contributo che il professore Porqueddu ha apportato per valorizzare un comune che ospita la scuola regionale dello sport. Due sono state le collaborazioni importanti che vengono riconosciute al presidente regionale del CONI. La rilevante attività di supporto e di consulenza per l'istituzione della scuola dello sport si legge nella motivazione e poi la ricerca e acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'iniziativa. La Guardia di Finanza ruola 53 allievi ufficiali. Possono partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto alla data del 1 gennaio 2014 il 17esimo anno di età e che non superano il 22esimo e siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea specialistica o magistrale. Per maggiori informazioni consultate il sito internet www.gdf.gov.it. La scadenza è il 3 febbraio. Appuntamento domani sera alle 21 nell'Aula Magna del Cuea in via Cesare Battisti 6 a Pinarolo con la teologa Antonietta Potente che interverrà sul tema Essere Credenti Oggi. L'iniziativa conclude un ciclo di conferenze organizzate dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Donato.